Io pensavo che esplodesse prima e invece sta ancora così Io volerò, io volerò via Bella a tutti razzuari, questo è Spoi, bentornati, oggi siamo su un nuovo video del mio canale E oggi siamo tornati con un video abbastanza strano Infatti oggi siamo qui per un esperimento Oggi proverò a mettere attorno alla bottiglia di Coca-Cola Mille elastici Un attimo solo prendo gli elastici Ok, sembrano spaghetti In più c'ho la seconda inquadratura perché qui ci sarà l'inquadratura dove si vedrà la bottiglia E l'inquadratura dove mi vedrò io Sì Non c'è il modo migliore di celebrare la mia città Allora fatemi sapere nei commenti quale altri video con gli elastici volete Perché ne ho presi tipo 4000 E giuro, ho contato dal primo all'ultimo tutti questi elastici Non sono 1000 ma sono 500 E adesso vi farò vedere perché 500 Perché prendendo gli elastici grandi In poche parole io farò due giri attorno alla bottiglia E quindi vale doppio Un elastico vale per due Namo tutti arriccione Andiamo Io spero che questo video possa piacervi E fatemelo sapere oltre a un bel commento lasciando un bel like Perché se vedo che questa serie può piacervi Continuerò magari questa serie Oggetti vs 1000 elastici Io non vi chiedo una cifra di like però lasciateli veramente tanti Adesso partiamo Che poi Poi io neanche sto contando quanti elastici sto mettendo Però dai diciamo che già sono un pochini Poi diciamo che ho messo anche una tovaglietta Per paura che esplodesse tutto E di sporcare tutto il tavolo e per terra Voglio solo blanche spray Che poi io spero veramente che non esploda Ma non perché poi ho paura di sporcare tutto Perché secondo me sarebbe veramente molto figo Vedere una bottiglietta di coca cola Con 1000 elastici sopra Con sto caldo me sto a squagliare In più c'ho la luce Rega sto proprio a morire de caldo Ragazzi è circa un quarto d'ora Che sto mettendo gli elastici E la bottiglia rimane ancora così Io sto schiumando di caldo Però continuerò comunque a mettere questi elastici Fantastici Secondo me tra poco esplode Tu non sai di cosa sono capace Io comunque non ci sto credendo Pensavo che esplodesse prima Però si vede che è un po' ingrandita qua Forse si accedera il battito Pensavo che non sarei resistito Il cuore mi esplode Questione di un attimo Non sembra più coca cola Ma sembra tipo il vino Quando ti portano il vino Rega è uguale Quindi inalto il bicchiere Allora rega io direi basta Anche se sinceramente non l'abbiamo messi Tutti e mille Però adesso sta veramente esplodendo Non ce la faccio neanche a mettere quelli nuovi C'è tantissima difficoltà Questa non deve venire più dalla testa Pensavo E rega è veramente ingrossata È tipo come la faccia mia Io ho paura che veramente esploda adesso Però adesso vorrei fare una cosa Vorrei provare ad aprirla Sicuramente esploderà perché l'ho mossa E scolarmela tutta di un fiato Prima sta cosa e dicono che se Deli schicchere Non esplode Per sicurezza Se fanno il segno Da croce Io mi tiro indietro Vediamo Apriamo Che ancora non era mai aperta Oh no 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 Sta esplodendo Ah è vero perché La pressione di là Ci butta fuori tutto Quindi mi è venuta un'altra idea Andiamo nel lavandino Andiamo Mi si è pure tolto il cappello E stava morendo di caldo Come possiamo ben vedere Ormai già sta esplodendo Quindi vai Facciamola esplodere qui dentro Allora adesso vedremo l'esplosione Perché la pressione dei laccetti sicuramente Ecco qui Farà esplodere tutto E ho fatto bene a non aprirlo sul tavolo Vedi sono stato alquanto intelligente E adesso assaggeremo la nostra coca cola Guardate qui che sta stringendo tutto il laccio Adesso me la finirò tutta di un sorso Tutta di un sorso Ancora dai Ascigliamoci dal sudore di questa ardua impresa E qui ci possiamo ritrovare i nostri mille elastici Magari non si vede bene all'interno Però qui è tutto stretto I lacci stanno praticamente distruggendo tutto Io non ce la faccio neanche a muovere Per quanta pressione hanno Comunque diciamo che questo esperimento Mi è veramente piaciuto Voi che già volete fare fighi nei commenti Oh mio dio hai detto che la coca cola è buona per sponsorizzarla E ti dai soldi Ma magari mi desse soldi a coca cola Anzi se coca cola stai guardando questo video Dammi li sordi Che ma so comprata da solo Un euro al supermercato Voglio triplicare sti stipendi Comunque ragazzuoli Io spero che questo video vi sia piaciuto E' stato un esperimento così che ho voluto fare E che diciamo a me è piaciuto molto Infatti nei commenti fatemi sapere con cos'altro fare Questa challenge dei mille elastici Versus questo oggetto Se questo video è piaciuto Lascia un bel like Commentate e condividete Mi raccomando fatemi sentire il massimo supporto Sia con un commento che con un bel like Se non siete ancora iscritti al canale Iscrivetevi Noi si beccamo con un prossimo video Baci cuccioli